Una splendida giornata fatto da sfondo alla seconda edizione della Ultra Trail del Gran Sasso con partenza e arrivo a Pietracamela. Oltre 400 gli iscritti che si sono dati battaglia correndo sui sentieri di montagna. L'appuntamento clou è stato quello con la Ultra Trail di quasi 66 chilometri e con un dislivello di oltre 4.000 metri, con correnti arrivati da ogni parte d'Italia ma anche dall'estero. Vittoria per Mauro Razom della Dolomitica con il tempo di 8 ore e 16 minuti, mentre tra le donne con meno di 12 ore ha trionfato Alina Popa della Rimini Marathon. La Tre Rifugi Sky Race di 31 chilometri con dislivello di oltre 2.000 metri se l'è aggiudicata con una prova super il bergamasco Luca Arrigoni che parteciperà anche ai mondiali di Sky Running, poco più di tre ore il tempo impiegato. Prova straordinaria anche tra le donne con successo di Valentina Del Grosso dello Sporting Club Avezzano in 4 ore e 16 minuti, un'ora di vantaggio sulla seconda classificata. Per quel che riguarda la Pietracamela Trail, 17 chilometri con 1.120 a 20 metri di dislivello, successo per Matteo Rossi dell'Atletica Gran Sasso Teramo con un'ora e 38 minuti. Tra le donne Pamela Bauccio della Ternana Marathon con 2 ore e 43 minuti. È stato veramente un successo ai 450 iscritti che hanno scelto di venirci a trovare, abbiamo avuto un grandissimo riscontro, tutti contenti sui percorsi, sui ristori, su il paesaggio. Ieri abbiamo avuto una giornata fantastica con l'Ultra che è partita poco prima dell'alba e ha festeggiato il passaggio proprio all'alba di Cima Alta dove c'era l'affaccio sul paretone incredibile, colorato di rosa, un paesaggio meraviglioso.